Colpa, a parte Grillo che è colpevole sempre di tutto, partiamo come facciamo sempre dal nostro unico faro, Renzi, anche perché la parola bisogna dargliela in quanto parla così poco, non ha praticamente occasioni per parlare, poveretto, nell'ultimo mese pensate ha parlato in tv, è apparso in tv soltanto 77 ore, se non è censura questa non so che censura sarebbe. Bene, pochi minuti dopo la tragedia Renzi che velocissimo aveva già scoperto i colpevoli, la burocrazia e i giudici, Palazzo Chigi ha 4200 dipendenti, 21 uffici, 16 dipartimenti, 6 strutture di missione, 2 unità, 300 dirigenti, il triplo del premier inglese Cameron, ma Renzi non ce l'ha con la sua burocrazia, ce l'ha con quella degli altri, poi ce l'ha con i giudici, stavolta quelli amministrativi del Tar e stavolta non perché facciano troppe ferie, anzi perché lavorano troppo sui ricorsi contro le gare per i lavori sui torrenti di Genova. Sarà vero? Come in tutti i gialli che si rispettano esaminiamo uno a uno gli indiziati, il primo sono i politici naturalmente, quando c'era lo scandalo del Mose Renzi ha dato la colpa ai politici, cioè la vecchia guardia del PD perché il sindaco Orsoni non era renziano e quindi gliela si poteva dare. A Genova invece il territorio è responsabilità della regione che da nove anni è retta da un renziano Claudio Burlando, quindi non c'entrano i politici e non c'entra Burlando, eppure da quasi 30 anni Burlando è l'uomo più potente della Liguria. Già nell'83 era assessore comunale ai trasporti, poi è stato vice sindaco, poi è stato sindaco tra il 90 e il 93, risultato due alluvioni in due anni. Poi se n'è andato ed è arrivato un magistrato, Adriano Sansa, quattro anni ha governato, ha messo addirittura un geologo, assessore all'urbanistica, ha pulito i torrenti, ha varato un megapiano da miliardi e miliardi sul bacino dei fiumi, risultato nessuna alluvione per 17 anni. Burlando intanto era andato a Roma, quindi si era un po' allontanato da Genova, faceva il ministro dei trasporti del governo Prodi, infatti i treni iniziarono a deragliare e a scontrarsi. Nel 2005 Burlando torna a Genova come governatore, piano, casa, tutto cemento, opera di un'assessora che poi è stata arrestata, progetti per porti turistici praticamente in tutta la Liguria in tandem con il grande Scaiola, giravano sempre in coppia come Enrique e Gian, come Gianni e Pinotto, li chiamavano il duo calce e martello praticamente. Risultato, le alluvioni riprendono alla grande 4 alluvioni in 4 anni. Dopo quella del 2011 che ha fatto 6 morti, la regione approva un megacentro commerciale per 5.000 persone in una zona che lo stesso assessore all'ambiente della regione definisce a rischio di alluvioni. Per lo scolmatore del torrente ferreggiano, che è l'affluente del Bisagno, che è esondato pure esso 7 giorni fa, la regione non ha soldi e infatti stanzia soltanto 5 milioni di euro. In compenso, nel 2011 ne ha spesi 1,6 in pubblicità istituzionale per magnificare i suoi trionfi sui giornali e sulle radio locali. Due vicepresidenti della giunta Burlando nel frattempo finiscono dentro, mezzo consiglio regionale è indagato, l'assessore alla protezione civile Raffaella Palta, che è una fedelissima di Burlando, doveva occuparsi, lei, della prevenzione degli allarmi per l'alluvione, da una settimana è scomparsa, deve essere allergica all'acqua probabilmente, comunque adesso è la candidata favorita a fare il governatore quando scadrà il suo amico Burlando. Per tutti questi motivi Burlando ha dato la colpa dell'alluvione a chi? Ad Adriano Sansa, cioè al sindaco di 20 anni fa e poi ha spiegato testualmente il modello previsionale non ha funzionato, è la prima volta in 10 anni, veramente non aveva funzionato neanche 3 anni fa, ma fa lo stesso. E poi ha aggiunto, fino al bollettino delle ore 18 di giovedì che indicava un'attenuazione dei fenomeni, la realtà e i modelli corrispondevano, poi alle 21 c'è stata una divaricazione fra il modello e quello che si stava verificando. E' vero che bastava leggere le previsioni del tempo della società meteorologica di Luca Mercalli che già mercoledì scorso avvertiva testualmente per diversi giorni temporali di notevole intensità ed elevato rischio di allagamenti e di sesti. Ma lo sappiamo bene, Mercalli è quel gufo che va sempre da Fazio, uno che proprio ci gode a parlare male del bel tempo per diffondere pessimismo. Quindi il sindaco Marco Doria, tranquillo e beato, col modello matematico è andato alla prima del Teatro Carlo Felice, felicissimo naturalmente anche lui. A Genova le autorità fanno sempre così, per sapere che tempo fa non è che escono, mettono il naso fuori dalla finestra, guardano all'insù, si concentrano sui modelli matematici, previsionali proprio. E' tutto all'incontrario, del resto quando c'è da imboccare una superstrada la si imbocca di solito in contromano, come fece il governatore. Secondo indiziato, il governo Renzi è appena arrivato a Palazzo Chigi, quindi non può entrarci niente naturalmente, però c'era già il 5 agosto quando come abbiamo visto i legali delle ditte che dovevano mettere in sicurezza il bisagno hanno scritto a lui, a Burlando e a Doria, avvertendoli che rimandare e temporeggiare ancora avrebbe significato il rischio di ripetere la tragedia del 2011. Nessuna risposta, da nessuno naturalmente. Che cosa faceva Renzi quel giorno? Era impegnatissimo a dire in tv agli italiani andate in vacanza belli e allegri. Adesso ha detto spazzeremo il fango della mala burocrazia, dei ritardi, dei ricorsi e dei controricorsi che rendono gli appalti più utili agli avvocati che ai cittadini. Già, ma gli avvocati li avevano pure scritto a nome delle ditte e lui non aveva risposto. Quindi probabilmente i ritardi che lui vuole spazzare via sono i suoi. Però lui è sempre così vago, parla per supercazzole, quindi non si capisce mai con chi ce l'ha. Terzo indiziato, la protezione civile. Non c'entra niente, neanche quella, perché ha sede a Palazzo Chigi e poi l'ha detto il suo capo, il prefetto Gabrielli, che non c'entra, quindi deve essere vero sicuramente. Ora è anche vero che non si erano neanche accorti che pioveva, è anche vero che 40 minuti prima che il Bisagno esondasse, un comunicato ufficiale della protezione civile diceva alle ore 19 sarà disattivato il servizio numero verde. Il servizio è poi tornato attivo alle 23, quando c'era già scappato il morto. Poi è vero che nei primi tre giorni di addetti alla protezione civile a Genova non se n'è visto nemmeno l'ombra, a parte Gabrielli che era onnipresente, presidiava proprio tutti gli studi televisivi la mattina, il pomeriggio e la sera alternando il giubbottino da combattimento con la polo azzurra Ralph Lauren. Un figo pazzesco, lo paghiamo dai 2 ai 300 mila euro all'anno per raccontarci periodicamente a ogni tragedia che il territorio è un malato terminale e poi ancora che non ci sono soldi e poi ancora che quel tipo di allerta, cioè avvertire ragazzi piove, sarebbe dovuta corrispondere a un tipo di attività che in questo caso non c'è stata e anche qualcuno ha sbagliato ma non lo dobbiamo crocifiggere, anzi dobbiamo dargli un premio, altro che crocifiggerlo. Ma sentite perché c'è uno che è ancora meglio, anzi una che è ancora meglio di Gabrielli e la responsabile del centro meteo idrogeologico della protezione civile, si chiama Elisabetta Trovatore, un giornalista di Genova le ha chiesto perché non avete dato l'allarme? Domanda semplice, risposta, la domanda è legittima, la risposta è che chiaramente dipende dal tipo di sistema con cui abbiamo avuto a che fare, si tratta di questi fantomatici sistemi autorigenerativi, quando sono all'interno di strutture, all'interno di fronti più estesi, sono prevedibili con una certa affidabilità e questo è successo in eventi passati, in questo caso è stato proprio un evento isolato, è proprio tutto chiaro, ha fatto la sua porca figura questa signora, abbiamo capito tutti, alla protezione civile fanno proprio dei corsi di supercazzola per i dirigenti per riuscire a rispondere senza mai dire niente e meno male che non l'hanno dato l'allarme giovedì sera. Pensate se davano l'allarme che cosa potevano inventarsi, non so, tipo il fantomatico sistema autorigenerativo all'interno delle strutture segnala un evento idraulico isolato di tipo umido con tendenze fangose, così non ci avrebbe capito una mazza a nessuno lo stesso e non sarebbero scappati. Quarto indiziato, il TAR, rimane solo il TAR, naturalmente infatti Renzi ha puntato immediatamente il dito. Se il bisagno esonda, come nel 1828, come nel 1971, come sempre, di chi è la colpa del TAR che ha bloccato per qualche mese dei lavori che si attendevano da 43 anni. Questa è la spiegazione lineare proprio. In realtà il TAR non è che si muove per sfizio personale dei giudici amministrativi, è la legge che lo obbliga a esaminare i ricorsi che fanno le ditte escluse da bandi di gara scritti con i piedi, per non dire con altro, che sembrano fatti apposta dai politici naturalmente per creare liti infinite. Comunque sul bisagno il TAR aveva respinto la sospensiva e sbloccato i lavori già nell'agosto del 2012, eppure i lavori non sono mai ripresi per questi due anni. Però non tutti i mali vengono per nuocere perché adesso, cinque giorni dopo l'alluvione, burlando ha detto che finalmente i lavori riprenderanno nel 2015, quindi a funerali abbondantemente avvenuti. Invece le buste per la gara dei lavori sul Ferragiano le hanno aperte proprio martedì. Prevedono cinque anni di cantiere, 40 milioni di spesa, il comune ci ha impiegato tre anni per scrivere il bando e adesso chiede il progetto esecutivo in 60 giorni. I 60 giorni non sono il tempo per fare un progetto esecutivo, sono i tempi per scrivere uno scarabocchio, per fare la solita supercazzola, naturalmente. Alla fine del bando c'è una postilla strepitosa che dice che i 40 milioni li vuole pure il comune di Salerno, che ha fatto ricorso, indovinate a chi? Al TAR, e se vince Salerno il bando è nullo. E chi è il sindaco che è ricorso al TAR contro la città del Renziano Burlando? Il Renziano De Luca, però naturalmente è colpa del TAR che al momento non è Renziano, sono i soliti parafulmini dei soliti paraculi.